Berry Plant vi presenta questa grande opportunità. Non devi più cercare, non si può andare oltre questa bellissima casa. La casa Vanta, un soggiorno perfetto per fare divertire e rilassare la famiglia. Camere da letto di buona misura con ampio spazio. Mettete questa proprietà al primo posto della vostra lista. Fissate un appuntamento al più presto per vedere questa casa.